bottiglia esagonale, la riconoscete ovunque, secondo me è una bottiglia che trovate ovunque, anche nei supermercati allora, il Roku Gin, un gin che ha comunque avuto la sua parte per quello che riguarda lo stile giapponese allora, è un gin ben fatto, con queste piacevoli note allora, qui hanno bilanciato bene quelle che sono le note agrumate dello yuzu insieme alle note verdi, che derivano un po' dal tè verde e da altre erbe aromatiche che utilizzano allora, quando è uscito, sì, tutti, cioè, wow oggi chiaramente lo dai un po' per scontato, nel senso che oggi ti ritrovi con una serie di gin in stile giapponese che ti puoi preferire al Roku, che comunque rimane lì, rimane lì, rimane lì nel suo posizionamento di mercato secondo me sta perdendo anche un po' interesse però oggi ve ne parlo, è comunque un gin piacevole, di buona eleganza, ha questo bel sentore agrumato verde entra in punta di piedi, non è di quelli che entrano in modo pesante, preponderante ci sono certi gin dove, in giapponese, dove lo yuzu, senti solo dello yuzu qui devo dire che il Roku, se lo scelgo, io lo scelgo per l'equilibrio per l'equilibrio che ha nella gestione delle sue botaniche mi piace questa, quindi questa nota agrumata, sottile poi questo floreale che a me ricorda un po' le rose, ricorda un po' il licci le note verdi, verde un po' un po' dure, quel verde un po' duro, un po' fresco un po' dure da foglie di tè, ecco poi dopo chiaramente tutta la parte delle erbe aromatiche eccetera eccetera, quindi devo dire, bello anche l'equilibrio allora con due cubetti di ghiaccio lo bevi, pure o non lo bevi due cubetti di ghiaccio lo bevi perché si stempera e quindi ha queste note preponderanti, sempre di agrumi e note fresche quindi diciamo che non è un ghi monocorde, però è piacevole non ha una grande complessità, non devi neanche pensare tanto quando tu lo vai a bere, però insomma è un ghi comunque semplice ecco, non è che sia chissà che cosa in tonica, secondo me si presta molto bene perché queste note di agrumi sicuramente in tonica infatti si stemperano e lascia spazio a qualche ricordo un po' più speziato che va un po' a giocare con quello che abbiamo sentito va un po' ad aiutare il ricamo va a aiutare un po' il ricamo un po' più speziato sicuramente al palato in tonica soddisfa molto di più perché senti una parte di agrumi che regala pienezza perché questa parte speziata va a dare una mano a questi agrumi che effettivamente sarebbero troppo monocorde quindi tutto sommato è un gin che ha fatto il suo tempo si trova, ha un buon rapporto qualità prezzo per quello che ho visto in giro, soprattutto in certi supermercati ecco in tonica viene fuori ancora più la parte pepata che si sente anche in purezza però con la tonica questa parte pepata finalmente riesce a prendere un po' spazio all'inizio senti che arranca poi prende spazio e comincia a giocare con gli agrumi e quindi regala un bel ricamo come definirei questo gin? un gin per me un po' scontato soprattutto oggi che abbiamo oggi chiaramente abbiamo una maria di gin giapponesi di un certo livello, di una certa complicità questo è un po' scontato ha fatto la differenza ha fatto un po' da apripista quando è apparso sul mercato oggi chiaramente io lo trovo un po' scontato non m'attira però ne riconosco l'eleganza cioè non m'attira perché preferisco altri nel mondo dello stile giapponese del gin preferisco altre tipologie di gin però ne riconosco la sua eleganza e credo però ancora oggi per questo me ne parlo che sia tra i gin giapponesi che ha più rispetto dell'equilibrio perché ultimamente sto notando che i gin giapponesi stanno spingendo su delle note molto più appuntite stanno cercando, non so, come se volessero attrarre subito l'attenzione del consumatore questo invece è sempre parte in orizzontale poi piano piano si avvicina poi si sviluppa poi crea ancora questa parte speziata con gli agrumi e quindi devo dire che qui l'eleganza va riconosciuta e per questo ve ne ho parlato ciao ragazzi